Consulenza molto interessante ieri mattina, io amo le consulenze perché questo poi è il core business dell'attività del difensore tributario, le consulenze nelle quali do un parere sull'opportunità o meno di fare ricorso contro un avviso di accertamento dell'agenzia dell'entrata. Questo avviso era stato notificato poco prima del lockdown, allora i termini per ricorrere sono prossimi ed era urgente per questo imprenditore capire cosa fare. Questa consulenza di ieri mi ha ispirato a questo video nel quale ti racconto tre ragionamenti che possono essere fatti per decidere se fare ricorso verso un avviso di accertamento oppure se tentare la strada dell'accertamento con adesione. Il primo punto da valutare secondo me è quanto si ha ragione, quanto è ben fatto questo avviso di accertamento, quanto è difendibile quell'avviso di accertamento di fronte ad un giudice tributario. Allora il mio personale parere è che tanto più un atto è malfatto e quindi tanto più sono gli argomenti difensivi per contestarlo, tanto meglio è fare un ricorso e non invece un accertamento con adesione che si dovrà discutere con lo stesso funzionario che ha emesso l'atto. Il secondo punto è quanto è battagliero l'imprenditore? Anche questo aspetto non è irrilevante. L'imprenditore ne fa una questione di principio, cioè non accetta quello che è successo, è disposto ad andare fino alla fine pur di aver ragione o è disponibile a mettere qualcosa sul piatto per chiuderla? L'imprenditore con cui parlavo ieri ha cominciato la call che abbiamo fatto dicendomi Dottore per me è una questione di principio, io non gliela posso dare vinta perché è un'ingiustizia. E allora partendo da questo presupposto evidentemente l'adesione è meno attraente perché comunque l'imprenditore vivrà con frustrazione il fatto di scendere a patti. Ed allora questo aspetto nelle consulenze che faccio non è irrilevante. Quanto sei battagliero? Il terzo punto, discusso anche in questo caso, riguarda la possibilità che un mancato ricorso possa causare danni non immediati ma futuri alla società. Vi spiego meglio. Nel caso di specie della consulenza di ieri, l'agenzia delle entrate aveva chiesto i documenti del 2015 e del 2016, due anni. Dopodiché l'accertamento emesso è stato quello del 2015, ma quello del 2016, se va il 15, è pronto per essere emesso. Ed allora se noi chiudiamo un'adesione sul 15 e sul 2016 ritornano gli stessi problemi che c'erano nel 15, allora signore e signori dobbiamo prepararci a fare poi un'adesione anche nel 2016 perché con difficoltà potremmo contestare un atto quando l'anno prima siamo scesi a patti. Quindi, nel tuo caso, ti stanno contestando un qualcosa che non ricorre negli anni dopo ed allora è più plausibile pensare di chiuderla lì. Ma se invece ti contestano qualcosa che ricorre anno dopo anno, allora l'interesse tuo a fare ricorso aumenta. Questi sono gli spunti che mi ha suggerito la consulenza di ieri. Mi preparo nei prossimi giorni a scrivere il ricorso per questo imprenditore pronto per una nuova battaglia.